Questa video-reazione è dedicata alla parola dome, che si traduce in italiano con cupola e non con duomo. Under the dome is a novel by Stephen King. Sotto la cupola è un romanzo di Stephen King. Duomo in inglese si traduce con la parola cathedral. This is a medieval cathedral. Questo è un duomo medievale. Ricapitolando, dome cupola, duomo cathedral.